Il grande pubblico inizia a conoscerla per la sua partecipazione al Dopo Festival di Sanremo 2007. Condotto da Piero Chiambretti, la cantautrice aveva presentato la sua canzone Fondanela, che era stata scartata dalla commissione esaminatrice. Ma gli autori del Dopo Festival avevano deciso di farla esibire nel corso della trasmissione. Il brano, dal testo surreale, scritto insieme alla pianista Alessandra Celletti, rievoca sonorità orientali, e viene presentato con l'ausilio di un balletto. Riscuote successo ed accende i riflettori su questa cantautrice, in realtà attiva dal 1996, il che le consente di ripresentare la canzone anche nelle due serate successive della trasmissione, ed addirittura nel corso della serata finale del festival. È appunto nel 1996 che Simona Cipollone, che si è trasferita da poco tempo a Roma per studiare psicologia, scrive una canzone, intitolata Embè, che viene pubblicata in una compilation edita dalla Step Music, una piccola etichetta di Pescara. Con questo brano Momo arriva al secondo posto del festival, Voci Domani. Al primo posto si classifica Valerio Di Rocco. Anni dopo Momo conosce Simone Cristicchi che, colpito dal brano, vi apporta alcune modifiche. Gli cambia il titolo e lo presenta al festival di Sanremo 2006 con il titolo Che Bella Gente. Il brano si classificherà al secondo posto nella sezione Giovani. Nel 2004 scrive le musiche per lo spettacolo teatrale Monologo al Femminile, su testi di Marta Bucciarelli. Dal 2001 Momo si esibisce in tutta Italia, accompagnata dal suo gruppo composto da Luca Venitucci, Arrangiatore, Daniele Ercoli, Contrabbasso e Bombardino, Desiree in Fascelli, Fisarmonica e Violino, e Federica Principi. Pianoforte, con cui presenta le sue canzoni, spesso infarcite di umorismo e giochi di parole, come Buon governo, nella quale immagina un governo fatto dai personaggi dei fumetti. Con Zio Paperone Ministro delle Finanze, Paperino che ha il dono dell'ubiquità. Ora qui, ora qua, ora qua, con il suo gruppo registra il primo album, intitolato Il Giocogliere come uno dei brani contenuti, che viene pubblicato in tutta Italia dalla Sony Music il 30 marzo 2007 che è prodotto dal cantautore americano Yono Manson. Chiambretti la chiama poi come ospite fisso nella sua trasmissione Marchetto sulla 7. Nel 2009 ha pubblicato il secondo album, intitolato Stelle ai piedi, allegato ad un volume autobiografico pubblicato da Bonpiani. Sempre nel 2009 partecipa al film Ce n'è per tutti diretto da Luciano Melchionna con Ambra Angiolini. Stefania Sandrelli, Arnoldo Foa e Anna Falchi e dal 2010 entra stabilmente nel cast dello spettacolo teatrale Dignità, Autonome di Prostituzione, uno spettacolo di Luciano Melchionna da un format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna, che nelle precedenti edizioni ha visto anche la partecipazione di volti noti del nostro cinema, quali Carolina Crescentini e Giorgio Colangeli. Ha ricevuto il premio speciale Golden Graal 2008 e ha ricevuto la nomination al premio E.T.I. Olimpici del Teatro 2009 per la categoria Miglior Spettacolo di Innovazione. Nel 2016 a marzo pubblica un EP dal titolo Santa per la stanza nascosta Records.